L'anno scorso avevamo iniziato questa novità al palco, non semplici presentazioni di libri ma incontri con autori. È più bello, non è qualcosa da ascoltare, è qualcosa a cui partecipare, con cui dialogare, avere la presenza fisica di una persona che ha scritto qualcosa che veniva dal suo pensiero, da un suo desiderio, da un suo bisogno di esprimere davvero un'attitudine profonda e di condividerlo con chi ascolta e con chi a quel punto può intervenire. Non soltanto durante il dialogo iniziale, li abbiamo chiamati dialoghi al tramonto appunto, perché inizieranno alle sette e mezza, ma proprio anche durante un momento conviviale successivo. Perché poi, lo sappiamo insomma, soprattutto in Italia con le gambe sotto il tavolo la lingua si scioglie di più, quindi è anche più bello intervenire su discorsi corposi, magari non all'interno di un'assemblea vasta, ma all'interno magari di un singolo tavolo, dove davvero l'anno scorso si sono approfonditi discorsi interessantissimi e chissà che anche quest'anno speriamo proprio che possa ripetersi questa esperienza qui.